E' stata arrestata per tentato omicidio e porto abusivo di armi la donna sancataldese di 31 anni che ha accoltellato l'ex fidanzato, un 35enne di Delia. Il fatto è accaduto in un locale di via Luigi Monaco a Caltanissetta. La relazione tra i due si è chiusa nelle 2017 ma l'uomo non si è rassegnato alla fine della storia, minacciando e perseguitando la ex. L'epilogo sabato scorso in serata, quando la 31enne, dopo l'ennesima lite, gli ha sferrato una coltellata all'addome provocando una ferita per la quale si è reso necessario un delicato intervento chirurgico eseguito all'ospedale Sant'Elia dai medici Giovanni Di Lorenzo e Maria Amico. Prognosi ancora riservata nonostante il decorso post-operatorio sia regolare. La giovane, difesa dall'avvocato Massimiliano Bellini, si trova ai domiciliari.